Siamo pieni di malattie neurotiche, siamo pieni di autismi, l'autismo è la malattia del secolo, signori, e l'autismo non lo riconosci, perché per esempio è l'Aspenger, la sindrome di Aspenger, e c'è pieno di questi filosofi in televisione che hanno la sindrome di Asperger, che è quella sindrome di quelli che parlano in un modo e non capiscono che l'altro non sta capendo, e vanno avanti, e fanno magari esempi che non c'entrano un cazzo con quello che stanno dicendo, hanno quel tono sempre uguale. Le parole di Beppe Grillo al Circo Massimo hanno creato sconcerto e indignazione e anche D'Arezzo si è alzata la voce dell'associazione Arezzo Autismo con una lettera aperta. Grillo nel suo intervento in quei minuti in cui ha parlato di autismo ha sbagliato quasi tutto, intanto ha definito l'autismo malattia, ha sbagliato il modo di dire Asperger, ha sbagliato i riferimenti alle persone che non capiscono, che non sanno. L'autismo e le malattie, le patologie o la diversità neurologica dei nostri figli, di tante persone, siano vissute come malattie, come qualcosa da irridere. Ecco, questo è sinceramente inaccettabile. Si sdogana, come mi sono permesso di dire, il bullismo verso il diverso, in questo caso gli autistici e io quindi chiedo semplicemente di prima di parlare veramente conoscere di cosa si parla, venire nella nostra sede, incontrare le famiglie, sapere che quando si parla di una persona che non capisce non è vero, che quando si parla di queste persone si parla di famiglie che vivono un dolore, vivono una difficoltà che dura tutta la vita e quindi ci si aspetta che chi governa si occupi delle persone più fragili, non le irrida. Ecco, questo è quello che ci ha ferito più di tutti. Poi, legittimamente, mi dicono sempre, lui scherzava, lui scherzava. Sinceramente, io non ho riso come tanti altri milioni di italiani non hanno riso, spero soltanto che questo porti a un ravvedimento, perlomeno a un'apertura di dialogo nei confronti di un mondo dell'autismo che purtroppo con queste parole risulta ancora molto sconosciuto ai governanti, questo dobbiamo dirlo. A Gagnaglia ha risposto? Allora, attualmente no, però non chiedo neanche che risponda mezzo stampa. Io ho scritto che il mio gesto è un gesto un po' inusuale, neanche il mio particolarmente non sono abituato a fare così, in genere io alzo il telefono quando posso e chiamo. Chiaramente io spererei più che su una risposta in una vera visita. Facciamo decine di iniziative durante l'anno, io purtroppo questa è una cosa che dico, a prescindere da Grillo. Facciamo decine di iniziative durante l'anno, noi come tante associazioni. Al di là del momento per prendersi l'applauso, per tagliare i nastri, vedo pochi rappresentanti delle istituzioni locali, nazionali e regionali partecipare alle nostre attività, alle nostre iniziative.